Ciao a tutti, sono Marco Gezza, ambassador di Bim Santori per l'Italia. Oggi vedremo insieme la lunga storia delle distillerie Santori, storia che nasce nel 1899 quando Shinjiro Tori apre il suo primo store ad Osaka dove importava e vendeva vini fortificati, vini liquorosi europei. Infatti all'inizio del Novecento la cultura giapponese si apre verso la cultura occidentale e inizia ad apprezzarne i gusti e i sapori. Così nel 1907 Shinjiro Tori lancia il primo vino stile porto prodotto in Giappone. Il successo è talmente alto che nel 1919 nel cuore di Osaka apre il Santori Liquor Atelier, atelier che tutt'oggi è ancora in funzione ed è l'atelier dove produciamo i nostri blend e i nostri distillati quali Vodka Haku e Gin Roku. La storia però di Santori si articola nel 1923 quando per la prima volta in Giappone viene aperta la prima distilleria di Malto. Infatti Shinjiro Tori con questo grande desiderio di portare il whisky nei confini giapponesi conosce Shinjiro Tori che manderà in viaggio in Scozia. Shinjiro Tori lavorerà nelle distillerie scozzesi e per non farsi mancare nulla decide anche di sposare una donna scozzese. Così nel 1923 tornando appunto in Giappone insieme a Shinjiro Tori che è il fondatore viene aperta la prima distilleria di Malti di tutto il Giappone ovvero Yamazaki. Successivamente nel 1972 si apre la seconda distilleria di Casa Santori sulle colline della penisola di Cita quindi vicino al mare un po' come in Scozia e infine un anno dopo nel 1973 la terza e ultima distilleria di Casa Santori viene aperta Akshu. Akshu in mezzo alle montagne famosa per produrre whisky leggermente torbati. Ciao a tutti sono Marco Gezza ambassador per l'Italia di Bim Santori. Oggi parleremo e degusteremo insieme Cita che ovviamente non è la scimmia di Tarzan ma è il nome della distilleria ed è anche il nome della penisola in cui appunto la distilleria di Cita sorge. Cita distilleria che apre nel 1972 proprio in questa penisola ed è la prima distilleria che produce single grain in Giappone. Infatti in questo caso siamo di fronte a un whisky single grain prodotto a partire da 100% mais quindi come materia prima abbiamo solo mais. Un whisky che però ha un processo di distillazione molto particolare infatti è composto da tre sostanzialmente whisky. Un whisky quindi un 33% di questo whisky fa una distillazione a doppia colonna che invecchia in botti ex bourbon. Un 33% invece fa una distillazione a tripla colonna che invecchia in botti ex sherry e infine un ulteriore 33% fa una distillazione a quattro colonne e invecchia in botti ex vino europeo. Questo fa sì che Cita, single grain appunto di casa Santori, abbia questo bellissimo balance tra le note più morbide e mielate del bourbon per finire con le note più fruttate date dal legno che ha contenuto sherry e vino. Il colore si presenta di un bel giallo dorato con questo naso che subito ci rimanda a note floreale ma a note anche agrumate e a note leggermente erbacee. In bocca al sorso si compone di dolcezza queste belle note di vaniglia date sicuramente dall'utilizzo di botti ex bourbon, queste note di miele e fiori che ritornano e un finale leggermente pepato che appunto si può collocare tra lo zenzero e il pepe nero. Kanpai! Ciao a tutti sono Marco Gezza, brand ambassador per l'Italia per BIM Santori. Oggi parleremo e degusteremo insieme Toki che è l'ultimo nato proprio in casa Santori. Toki è un whisky no age statement quindi un whisky dove non è specificato l'anno di invecchiamento ed è il blend quindi è il risultato dell'unione dei whisky provenienti dalle nostre tre distillerie Yamazaki, Akshu e Cita. Quindi è composto da due single malt e un single grain. Un whisky a 43 gradi che è ottimo ovviamente bevuto liscio ma che si presta molto 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 bene per essere bevuto nel classico metodo di degustazione giapponese che è il mizunari oppure anche chiamato eyeball quindi tanto ghiaccio tanta soda e diventa veramente una bevanda rinfrescante che può essere bevuta anche come aperitivo. Nel bicchiere si presenta con questo colore paglierino abbastanza chiaro un naso molto verde un naso che ricorda la mela verde acerba la mela croccante il basilico la menta e solo poi sul finale delle leggere note un pochino più morbide come quelle del miele. In bocca c'è questa bellissima corrispondenza che abbiamo avuto all'analisi olfattiva quindi queste note verdi che si ripetono mela basilico menta queste note balsamiche un finale che poi accarezza il palato con questa leggera sensazione di miele e questa morbidezza che lascia quindi il palato piacevolmente morbido. Che dire, campai! Ciao a tutti sono Marco Gezza, brand ambassador Italia per BIM Santory. Oggi parleremo di Yamazaki Distillers Reserve, single malt di casa Yamazaki quindi proveniente dalla distilleria Yamazaki, la prima distilleria aperta in Giappone nel 1923, un whisky no age statement quindi un whisky dove non è specificato l'anno di invecchiamento nato quindi dall'unione di piuma alti di casa Yamazaki. Un whisky che invecchia in botti ex bourbon e ex sherry e anche un po' di ex bordeaux quindi un whisky che racchiude in sé le note tipicamente più vanigliate dei whisky americani e le note invece tipicamente più fruttate date appunto dall'utilizzo di botti europee. Al naso quindi e successivamente in bocca esprimerà questo bel contorno di frutta, questa frutta che veramente è l'anima di questo whisky che si andrà poi a completare con delle note di miele e di piacevole speziatura simile a quella del pepe. Ciao a tutti sono Marco Gezza, brand ambassador di Bim Santory per l'Italia e oggi insieme parleremo di Ibiki, Ibiki Harmony. Ibiki è il blend più famoso di casa Santory, è il blend che ha reso celebre l'arte di saper mescolare vari liquidi in Giappone. Pensate che è il risultato dell'assaggio di oltre un milione di botti da parte del nostro master blender. I liquidi contenuti in Ibiki sono provenienti dalle nostre tre distillerie e sono almeno dieci malti diversi, provenienti quindi da Chita, Akshu e Yamazaki, la prima distilleria aperta in Giappone nel 1923. È quindi un blend proveniente da almeno dieci tipi di malti differenti ed è un blend che invecchia in diversi tipi di legno, tra cui la famosissima quercia bianca giapponese, rarissima. È un whisky che si presenta di un bel colore ambrato scuro, un whisky pieno, armonioso, come ci dice il nome, Harmony. Un whisky che ha queste note fortemente fruttate, queste note che però ricordano anche il cioccolato, l'arancio candito. Sul finale poi abbiamo queste invece note che si sposano di più con qualcosa di speziato, quindi dello zenzero, della cannella, del pepe nero, insomma un whisky a tutto tondo dove l'arte del blending giapponese si esprime sotto forma di bottiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.